Il segreto riguarda il primogenito della coppia reale, il principino George, che ha da poco compiuto cinque anni. . In tanti hanno subito pensato che dietro a questa scelta ci siano i trascorsi dello stesso William, il primogenito di Carlo e Diana, molto probabilmente, non ha trascorso un'infanzia tranquilla. . . Avvisato da subito che sarebbe stato il prossimo in linea di successione a salire sul trono, dopo il padre Carlo, avrà avuto il peso e la pressione, che forse un bambino di soli cinque anni dovrebbe risparmiarsi. . Sarà proprio per questo che il duca di Cambridge, e sua moglie Kate hanno deciso di non dire ancora al loro primogenito che un giorno potrebbe diventare il sovrano di Inghilterra. . Le rivelazioni, hanno un tono piuttosto ufficiale, arriverebbero infatti dal biografo reale. . Del resto Kate e William sono due genitori protettivi come tanti, il loro desiderio è solo quello di regalare al figlio un'infanzia serena fuori da pressioni e impegni poco adatti ad un bambino di cinque anni. . 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